buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 26 novembre benvenuti benvenuti a mattino insieme in queste ore si parla molto delle misure che verranno adottate per i giorni di natale manca ormai meno di un mese e chiaramente in queste ore si parla della scomparsa di Diego Armando Maradona se ne sta parlando chiaramente in tutto il mondo per parlare di questo e di molto altro abbiamo ospite in studio Diego Andreatta direttore di Vita Trentina buongiorno Diego buongiorno Marco buongiorno a tutti cominciamo con l'apertura che avete scelto questa settimana per il settimanale diocesano meno sci più bus perché chiaramente si parla della situazione impianti se ne è parlato molto in queste ultime ore se ne parlerà anche nelle prossime e parlate anche della possibile riapertura delle scuole magari dopo l'immacolata partiamo proprio dall'apertura sì è un titolo quello di questa settimana che esprime forse anche un po' una tesi un punto di vista del giornale più prudente rispetto all'apertura degli impianti sciistici anche facendo memoria di quanto è successo all'inizio della pandemia e dall'altra più favorevole ad un impegno maggiore e più possibile per un ritorno alla didattica in presenza abbiamo svolto però questa sorta di dilemma di contrapposizione che poi non dovrebbe essere così rigida perché evidentemente da una parte e dall'altra ci sono valori importanti in gioco come appunto il diritto al lavoro lo sviluppo economico ma anche la crescita dei nostri ragazzi e la qualità della nostra didattica dicevo rispetto a questo dilemma abbiamo cercato di portare come nostro compito delle voci qualificate delle voci che aiutano anche ad argomentare a capire come nella stessa Europa ci si sta muovendo in modo disordinato rispetto all'apertura della stagione sciistica così come sul fronte scolastico abbiamo riportato le voci anche degli specialisti abbiamo sentito il professor Giovanni Ceschi in rappresentanza del corpo docente rispetto anche agli lischi, ai pericoli, a ricadute negative che sui giovani questo lungo periodo di frequenza a distanza può provocare soprattutto chi fra loro, gli adolescenti si trova in una situazione di maggiore fragilità ecco offriamo alla riflessione dei nostri lettori questi due aspetti che sono emersi in modo importante questa settimana e poi c'è anche uno sguardo di speranza che è poi il filo che attraversano le nostre pagine una testimonianza di un gruppo di insegnanti di religione scritta proprio per Vita Trentina che in questi mesi hanno continuato a ritrovarsi anche a distanza per riflettere su come rendere più efficace il proprio compito educativo nei confronti dei giovani spaesati in queste settimane Io inviterei a questo punto anche i nostri telespettatori a riflettere su quello che è l'editoriale che proprio tu hai firmato questa mattina e in memoria dei nostri don appunto lo hai intitolato e devo dire che questa mattina anche i quotidiani locali, l'Adige, il Trentino, il Corriere del Trentino si occupano proprio di questa tematica perché purtroppo a causa del Covid ci sono anche delle figure storiche proprio della Chiesa Trentina che ci stanno lasciando Sì, anche ieri nella confezione, nella realizzazione di Vita Trentina siamo stati costretti a sbancare, come si dice in gergo, più volte le pagine perché si sono aggiunti due sacerdoti, Monsignor Felicetti e Monsignor Facchinelli agli altri tre di questi ultimi giorni La riflessione che ho voluto offrire sulla scia di quanto ha detto l'Arcivescovo Tisi in Duomo Domenica è stato un invito a rileggere queste vite, queste pagine di Vangelo come lui le ha definite e ci ho trovato dentro quanto Papa Francesco ha detto in una splendida Omelia Domenica in San Pietro rivolta ai giovani cioè la vita alla fine dipende da grandi scelte scelte che si fanno da giovani scelte che poi vengono confermate, riaffermate e queste scelte decisive sono quelle che molti di questi preti anziani stimati, popolari ci hanno consegnato non è un discorso peraltro solo da preti clericali abbiamo anche delle belle figure di laici nei nostri territori, nei nostri valli che giustamente i quotidiani ci raccontano in queste settimane di lutto e di rimpianto ecco, rileggere queste vite, fare memoria a mio avviso è anche capire qualcosa di più del segreto della vita spesa come dono per gli altri ecco, questo periodo un po' più lento magari ci fa un po' più attenti a saper non archiviare questi defunti nel triste e insomma totale giornaliero dei decessi ma a tenerli presenti anche come dei fari e forse dei motivi di incoraggiamento perché una vita donata è possibile come loro ci dicono e poi c'è la storia la storia di quello che è stato anche il tuo predecessore e don Vittorio Cristelli che compie 90 anni proprio nella giornata di sabato insomma anche questo sicuramente è un prete storico insomma del Trentino conosciutissimo sì, don Vittorio è stato un maestro anche per una generazione di colleghi e mi piace che anche tu lo ricordi gli mandiamo i saluti da questa trasmissione dalle pagine di Vita Trentina lo facciamo insieme a tanti lettori che lo hanno apprezzato e anche alla sua comunità di Miola di Pinei che ci hanno dato un simpaticissimo biglietto augurale e visto, scusa, che siamo su questo tema dei sacerdoti se mi consenti vorrei anticipare la presentazione poi della novità di questo numero di Vita Trentina c'è la rivista del seminario che si chiama Come Amici è da molti anni che viene pubblicata come informatore dell'attività interna al seminario ma anche come proposta di una riflessione vocazionale bene, da questo numero la rivista, che prima era in un formato più ridotto è inserto di Vita Trentina otto pagine io ringrazio molto la nuova redazione coordinata da Don Vincenzo Lupoli che ha realizzato queste pagine che sono di informazione ma anche di riflessione spero che anche i nostri lettori la apprezzino e sentiremo insomma le reazioni ecco anche qui il titolo d'apertura è tempo di attesa perché la riflessione del rettore Don Tiziano Tel che riguarda proprio queste settimane di pandemia tornando sulla prima pagina e sulle pagine interne di Vita Trentina sfogliando Vita Trentina voi proponete il resoconto annuale del centro missionario sia appunto in prima mi pare che poi nelle pagine interne che cosa ne emerge da questo resoconto? Emerge sempre e fa specie insomma rileggendo paese per paese le offerte l'attenzione e anche la generosità delle comunità trentine per l'attività missionaria non sono contributi che vanno direttamente al singolo missionario ma finiscono in una sorta di paniere che poi viene distribuito in parti uguali proprio per un principio di equità ecco quindi questa attenzione missionaria le cifre sono un po' calate quest'anno probabilmente anche a seguito della pandemia anche magari di una maggiore difficoltà nella raccolta in alcune occasioni in cui le chiese purtroppo non sono state frequentate o sono state meno frequentate e insieme in queste pagine troviamo una storia molto bella quella dei bambini di una scuola materna libanese che sono stati sostenuti direttamente da un progetto del centro missionario diocesano Augusto Goio si racconta questa storia molto interessante la scuola materna di Jaboulé che ospita ragazzi provenienti anche dai paesi in guerra vicini spiegaci adesso Diego quel titolo lì vicino accoglienza al tramonto vi riferite ovviamente a questo studio Eurix sull'integrazione sì penso che ne abbiate parlato anche voi è stato presentato in questi giorni è una valutazione tecnica scientifica di questo istituto di ricerca che opera qui in Trentino che purtroppo ci conferma quanto alcune scelte della giunta Fugatti rispetto allo smantellamento della cosiddetta accoglienza diffusa abbiano avuto delle ricadute negative non solo sulle persone interessate ma anche sulla realtà economica del Trentino e anche sul tessuto sociale ecco speriamo che questa ricerca a cui abbiamo voluto dare ampio spazio insomma porti anche il nostro governo ad una revisione di quanto si sta facendo sul fronte dell'accoglienza degli stranieri di cui il nostro Trentino ha comunque molto bisogno io credo che l'autonomia oggi può distinguersi anche in questi ambiti e può farlo in modo virtuoso al di là delle indicazioni di partito o dell'adesione alle scelte nazionali del proprio leader e qui penso a Matteo Salvini Io ti chiedo qualche dettaglio in più su un articolo che c'è all'interno che mi ha colpito che è firmato proprio da te Addio Malga per Diego Paterno viene raccontata questa storia corredata anche da delle bellissime immagini devo dire Sì grazie le immagini le dobbiamo a Gianni Zotta siamo stati insieme in Val Campelle in una Malga Malga Zoppetto che non si vede ci si arriva facendo un guado sul torrente Maso e lì abbiamo incontrato nelle ultime giornate Diego Paterno detto il fazzoletto un malgese che è un malgaro che deve lasciare dopo 27 anni questa Malga perché i proprietari hanno deciso di affidarla ad un altro gruppo di imprenditori è una vicenda abbastanza comune nelle Malghe Trentine dove sta prevalendo purtroppo una dimensione più commerciale direi più speculativa che favorisce i gruppi industriali in virtù di questi titoli europei titoli PAC che consentono in fondo di far fruttare gli ettari di pascolo sulla base di calcoli che appunto privilegiano i grossi gruppi imprenditoriali è un allarme che già Franco De Battaglia nella sua rubrica aveva suscitato qualche settimana fa noi abbiamo voluto andare sul posto raccogliendo anche le lacrime di questo malgaro che il processo umano ahimè non potrà tornare nella Malga che aveva costruito in questi 27 anni l'abbiamo vista pezzo per pezzo l'intero recinto costruito con le sue mani e che ora invece di fatto deve smantellare è il Trentino che cambia eh sì purtroppo sarebbe il caso di dire secondo me io adesso ti chiederei anche una questione che affrontate la questione psicologica degli stadi vuoti per parlare anche un po' di sport c'è un articolo che mi pare che è firmato da Marco Mazzurana che proprio cerca di sviscerare un po' questo tema l'impatto psicologico ovviamente degli stadi vuoti a causa del covid ecco sì è stato uno spunto che anche io ho trovato molto interessante quando ne abbiamo parlato nella riunione di redazione cosa significa vivere lo sport senza questo terzo occhio che è poi quello dell'amico dello sportivo anche del tifoso che cosa cambia sia per chi lo pratica sia per chi lo guarda questo effetto niente come si dice nel titolo e il parere della psicologa che Marco Mazzurana ha intervistato mi sembra interessante ecco è un po' nelle nostre intenzioni offrire nella pagina dello sport questi sguardi laterali rispetto a quello che solitamente si legge mi pare che questa settimana ci siamo riusciti e lo dico anche ringraziando i colleghi vorrei ringraziare questa settimana anche tutto il reparto grafico di Vita Trentina perché i lettori non se ne accorgeranno però dopo più di vent'anni abbiamo cambiato il programma di impaginazione con uno sforzo interno di rimodulazione che naturalmente è finalizzato ad un aumento della qualità ad uno snellimento delle procedure anche per favorire l'attività editoriale e libraria sulla quale la nostra cooperativa si sta decisamente orientando io ringrazio molto Diego Andreatta direttore di Vita Trentina per il contributo che ci porta lui ovviamente con Augusto Goio tutti giovedì grazie infinite grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti